ciao amici oggi parliamo di prostata in particolare di prevenzione e per fare prevenzione servono tre cose visite specialistiche alimentazione e stile di vita squaletto dice che nella fossa delle marianne c'è un centro per la squal prostata vero quando si parla di questi argomenti che sono seri è importante anche sdrammatizzare è questo che dico sempre a chi mi chiede ma perché fai battute parlando di prostata con uno squaletto di peluche in realtà in molti mi avete scritto che proprio grazie a questo tono leggero è un po scherzoso avete preso l'iniziativa avete fatto qualcosa di concreto per la vostra salute e io credo che questa sia la cosa più importante siete d'accordo con me se è così mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video sì ma basta con tutti questi preamboli dacci la notizia del titolo ecco la notizia secondo uno studio scientifico dimagrire aiuta a ridurre il rischio di cancro alla prostata sentito squaletto bisogna smaltire la pancetta ma aspetta non sarà la solita fake news sul mio canale non ce ne sono di fake news solo notizie vere quella di oggi è scientifica è uscita nel 2008 sulla rivista di settore cancer epidemiology biomarkers and prevention per seguire tutti i miei video è facile basta un clic così e cliccate sulla campanella delle notifiche qui sotto per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video allora lo studio è stato condotto negli usa da un team di ricerca della american association for cancer research ha analizzato i dati di 70.000 pazienti sull'indice di massa corporea e i fattori di rischio per il cancro alla prostata come i valori del psa i dati sono stati raccolti tre volte a 10 anni di distanza nel 1982 92 e nel 2003 ma cosa hanno scoperto che mangiavano troppo fast food in effetti sì gli uomini che erano ingrassati avevano fattori di rischio più alti e qualcuno aveva già manifestato forme aggressive di cancro alla prostata invece chi era riuscito a dimagrire almeno di 5 chili aveva ridotto notevolmente il rischio di cancro alla prostata non scappare da domani ti metto a dieta alghe bollite e corallini bianco niente dieta alimentazione consapevole se dimagrire diventa una punizione indovinate cosa succede è che poi riprendiamo i chili con gli interessi giusto per dimagrire in modo trendy e sano potete seguire i consigli di questa playlist e se volete un coaching personalizzato con me trovate il link in descrizione ora condividete questo video con i vostri amici sui vostri social e mi raccomando se avete notizie di iniziative nella vostra città per il benessere maschile scrivetelo nei commenti parlo di cose serie e vanno prese sul serio ok noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao finito non scappare challenge negli stati ricerca yeah english